Ad allietare la serata inaugurale della mostra dei presepi artigianali insieme ai ragazzi e giovani dell'oratorio, un coro di candide voci, quelle dei piccoli angeli del terzo circolo didattico e senato. Come sempre i giovani cantori dell'Istituto Agrigentino sono stati guidati dal maestro Mimmo Pontillo che ha mostrato anche per loro conto tutto l'entusiasmo di questa partecipazione. Quale migliore modo per aprire, per inaugurare un presepe con questo coro di bambini che noi abbiamo curato fin da questo mi pare che sia il sesto anno e quindi siamo stati contentissimi di partecipare. Sono dei cani dedicati alla Madonna e quindi sono delle cose molto importanti che loro hanno sentito e hanno eseguito in maniera scelente. Il coro Piccoli Angeli è nato all'interno della didattica della scuola che è come obiettivo anche l'educazione alla salute, al comportamento, al linguaggio, nonché alla cultura e alla riscoperta delle tradizioni popolari, allietando diversi momenti religiosi e dedicando di volta in volta i presenti veri e propri concerti. Il coro dei Piccoli Angeli si esercita tutto l'anno. Sono bimbi che hanno particolare tendenza per il canto ma non sono selezionati perché il maestro Pontillo ci tiene a prepararli didatticamente. Prova ne sia che cantano dal vivo, non cantano accompagnati con il disco ma acquisiscono giorno dopo giorno la buona abitudine del canto. I piccoli della scuola si esibiscono ogni pomeriggio anche alla Chiesa dell'Immacolata con canti dedicati alla Madonna e questo pomeriggio la loro esibizione è alla parrocchia della Beata Maria Vergine della Provvidenza.